Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telemolise. Apriamo con la cronaca, un terribile scontro si è verificato nel primo pomeriggio sulla Bifernina, all'altezza del bivio per Lucito, tre persone tra cui una donna urgente a Gian Felice di 69 anni di Castelmauro sono decedute sul colpo. Gli altri due sono Campani di Afragola di 32 e 44 anni, Raffaele Esposito Senna e Fabrizio Varese, questi i loro nomi. Sono diversi i feriti, quattro più seriamente, tra questi l'autista del mezzo di trasporto che è di Lupara e si trova in gravi condizioni al Cardarelli. Intanto il PM Papa ha disposto l'autopsia sul corpo di uno dei due Campani. Ma sentiamo il servizio di Giovanni Di Tota. Musica Corpi dilaniati e un muro insormontabile di lamiere hanno cominciato a lavorare così nel caldo torrido della Fondovalle del Biferno i soccorritori che sono arrivati pochi minuti dopo lo schianto tra un camioncino e un mezzo dell'ATM. L'autista del Pullman, con gli occhi sbarrati e insanguinato, ancora seduto sul sedile di guida, lo hanno immobilizzato e messo in sicurezza prima di muoverlo per trasportarlo di corsa in ospedale. E' uno dei feriti in gravi condizioni, 30 anni, di Lupara. Il 7 luglio è programmato il suo matrimonio. Un lavoratore, hanno commentato i colleghi, che nel frattempo avevano raggiunto il bivio di Lucito, teatro del terribile incidente. Un sorpasso azzardato l'ipotesi, poi lo schianto contro il Pullman dell'ATM che arrivava dal senso opposto. Orgenta Gian Felice aveva la Bifernina davanti a sé, seduta accanto all'autista nel posto di prima fila del bus. Nell'urto la donna ha sfondato il parabrezza ed è finita sulla carreggiata. Il Pullman, proseguendo la corsa per inerzia, l'ha travolta e investita. I suoi familiari sono arrivati poco dopo, scene di strazio per la fine tremenda della donna di 69 anni di Castelmauro. Il suo corpo è stato l'ultimo a essere tirato fuori da sotto il Pullman. Nel furgone, incastrati tra le lamiere accartocciate, i corpi senza vita di due uomini, campani, stavano trasportando prodotti della Amadori nel camion frigorifero. Verso Campobasso, nello scontro frontale con il Pullman, il camion si è ribaltato. Il frigo si è staccato dal telaio e ha staccato il carrello che era agganciato alla Clio che ormai aveva sfilato il mezzo blu dell'ATM. L'uomo che era alla guida se l'è cavata con un mezzo miracolo. Per pochi centimetri l'auto non è rimasta schiacciata sotto il pezzo volato via dal camion che si è coricato in mezzo alla carreggiata. Pochi attimi dopo lo scontro sulla scena è arrivato anche quest'altro mezzo dell'ATM che viaggiava verso Campobasso. L'autista ha subito riconosciuto il collega che era semisvenuto sul sedile di guida e lo ha chiamato a gran voce. Poi l'ha telefonata ai soccorsi e l'arrivo delle ambulanze. Poteva essere una strage ha dichiarato il testimone dell'ATM perché di solito su quel pullman ci sono gli studenti che tornano a Castelmauro e che partono alle 14.10 da Campobasso. Invece sul bus oltre alla vittima c'erano una decina di passeggeri. Tre sono ricoverati in ospedale. L'autista è stato operato d'urgenza al Cardarelli. La prognosi è riservata. E a causa del terribile incidente stradale la Bifernina è rimasta chiusa alle auto per permettere ai soccorritori di svolgere al meglio il loro lavoro. Sul posto infatti sono arrivati carabinieri e uomini della polstrada. I vigili del fuoco con le gru hanno provveduto a liberare i feriti dalle lamiere e a sgomberare la carreggiata insieme agli uomini dell'ANAS dai resti dei mezzi incidentati. La strada infatti dopo l'incidente si presentava completamente impraticabile per cui il traffico tra Campobasso e Termoli è stato deviato su strade alternative come la Fossaltina o la vecchia statale per Termoli. Tanti disagi quindi per coloro che tornavano o si recavano al mare che sono rimasti imbottigliati in lunghe code. Sul posto anche molte ambulanze con il personale del 118 che hanno provveduto a soccorrere i feriti e a trasportare quelli più gravi al Cardarelli di Campobasso e al Santimotio di Termoli. Parliamo ancora di cronaca. Sono gravi le condizioni della finanziaria di Termoli di 46 anni che ieri sera stava tornando a casa con la sua moto quando si è scontrato con un'auto che stava svoltando a sinistra per entrare nella stazione di rifornimento della statale 16. L'incidente si è verificato all'altezza di Petacciato. L'urto è stato violentissimo e il centauro ha avuto la peggio. Trasportato al Santimotio è entrato in coma e dopo qualche ora i medici hanno deciso il suo trasferimento a Campobasso. E cambiamo completamente argomento. Il trasporto ferroviario molisano presenta tanti troppi problemi che si ripercuotono sui passeggeri ormai esasperati. I ferrovieri hanno organizzato un incontro a Campobasso nel corso del quale hanno presentato delle richieste precise al governatore Frattura e all'assessore Nagni ma anche ai parlamentari del PD. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. I disagi e i problemi legati al trasporto ferroviario sono stati posti all'attenzione della regione da chi quei problemi li vive quotidianamente. Non ci riferiamo ai passeggeri che pure patiscono le conseguenze dei disservizi ma a chi sui treni ci lavora. I ferrovieri hanno organizzato un incontro a Campobasso a Follato al quale hanno partecipato il presidente della regione Paolo Frattura, l'assessore regionale ai trasporti Pierpaolo Nagni e i parlamentari molisani del PD Roberto Rute e Danilo Leva. A loro i ferrovieri hanno presentato richieste ben precise per migliorare un servizio che presenta tante e troppe falle. Nel corso dell'incontro è stato sottolineato come la sicurezza dei convoli non sia mai stata messa in discussione. I problemi sono altri, primo fra tutti il mancato investimento nelle infrastrutture. La rete ferroviaria molisana è rimasta la stessa di quella costruita cento anni fa, è stato denunciato. E poi ci sono i locomotori obsoleti che andrebbero rottamati e sostituiti da mezzi nuovi e più veloci. Anche in questo modo si contribuirebbe a ridurre i tempi di percorrenza e soprattutto si eviterebbero i guassi tecnici che si verificano ormai quasi quotidianamente e che creano pesantissimi disagi ai passeggeri ormai esasperati. Ci sono delle difficoltà, so che però la regione molise molto opportunamente ha aperto un tavolo per ragionare con il gruppo ferrovie dello Stato. Dall'altra parte ci sono degli interlocutori molto attenti. Confidiamo molto a che questo incontro diano luogo a soluzioni che possano migliorare il servizio nei termini più complessivi. E la regione dal canto suo è pronta a fare la propria parte, come ha dichiarato l'assessore ai trasporti Pierpaolo Nagni. Noi abbiamo un'area, quella del tratto ferroviario da Campobasso a Roma, che ha una grande debolezza, la mancanza di elettrificazione fino a Rocca Ravindola. Siamo una delle poche regioni d'Italia a non avere ancora tutta la linea elettrificata. Questo ci costa un po' in chilometri, in distanza, ci costa anche un po' in tempo. Ci stiamo intervenendo, nel senso che immaginiamo di poter inserire questa tra le opere strategiche che spetterebbero al Molise. E' un'intesa generale importante che dobbiamo fare a livello nazionale, con tutti i parlamentari, di tutte le forze politiche, perché le battaglie del Molise oggi, in questo momento difficile, devono essere combattute da tutti in maniera unica, senza colori. Sappiamo però che questo è un percorso politico complicato, è un momento finanziario difficile per lo Stato e per il governo italiano. E sulla GAM è intervenuto l'esponente SEL di Boiano Alfonso Mainelli. Sentiamo l'intervista realizzata da Giuseppe Lanese. Intanto ci sono dei punti da chiarire, Avvocato, quali? Innanzitutto c'è da chiarire, poiché la GAM oggi è nella lista delle società partecipate in dismissione da parte della regione, cioè sarà ceduta sul mercato, noi abbiamo fatto rilevare che al momento non è stato nemmeno iniziato un procedimento interno che porti poi alla valutazione dell'azienda. Tenga presente che le dismissioni sono atti di alta amministrazione, non atti politici, per cui ci sarà l'obbligo di motivazione, per cui la regione dovrà necessariamente iniziare un percorso certificato che porti a identificare qual è il prezzo di gestione sul mercato dell'azienda. Questo al momento non c'è e ovviamente, sicuramente, frena la possibilità di avere interlocuzione con interessati seri. Avvocato, quindi, dice lei, si sta in pratica perdendo tempo in questo momento? E' certo, si sta perdendo tempo, innanzitutto si perde tempo affidandosi ai tavoli ministeriali che hanno tutt'altra funzione. E' comprensibile che ci siano incontri a livello centrale per quanto riguarda la questione della cassa integrazione dopo il passaggio dalla Solagrital a GAM. Ma pensare che il Ministero, un tavolo di crisi ministeriale, possa dare un'indicazione di risoluzioni è fuori dalla realtà per un motivo molto semplice. I tavoli ministeriali di crisi intervengono quali mediatori in questioni tra aziende private e parti sociali. In questo caso ci si trova di fronte a un ente pubblico che è interamente proprietario di un'azienda, l'ha già messa in una lista, la cosiddetta black list di dismissioni, quindi se ne dovrà liberare. Non si vede il Ministero quali consigli possa dare su questa questione. E allora quale potrebbe essere a questo punto la soluzione per salvare la filiera vicola molisana e in particolare la GAM, la ex Solagrital? Ma guardi, noi col circolo SEL di Boiano fin dal 2010 avevamo quantomeno proposto Il regolamento comunitario 1083 che prevede i cosiddetti grandi progetti, l'articolo 39, con un budget minimo di 50 milioni di euro, secondo noi si poteva almeno tentare quello di costituire e costruire un grande polo agroalimentare nel Molise in accordo con il Centro Nazionale di Ricerche, con l'Università del Molise per un prodotto di qualità. Riunione all'assessorato regionale al lavoro per due vertenze spinose, quella del Carsic di Venafro e della fisiomedica Loretana di Toro. Sentiamo Tonino Danese. Un confronto diretto con le parti sedute al tavolo, quello inassessorato al lavoro sulla questione della Carsic di Venafro e della fisiomedica Loretana di Toro. Per il Carsic si è stabilito di sospendere la procedura di mobilità per 48 addetti e avviare una ricognizione con Regione Asrem per rivalutare la retta giornaliera riconosciuta all'istituto di riabilitazione ferma al 2005. Il Molise infatti prevede un importo di 109 euro giornalieri, mentre sono 209 euro in Abruzzo e somme ancora più alte in altre regioni. Durante l'incontro è stato sottolineato che spesso i pazienti molisani non trovano posto nelle due strutture del Carsic e della fisiomedica Loretana di Toro e dunque sono costretti a ricoverarsi altrove fuori dal Molise con disagi per le famiglie, più spese per la Regione e questo comporta perdita di posti di lavoro nel settore. I 55 lavoratori della fisiomedica Loretana di Toro in presidio davanti la sede della Giunta regionale avanzano ancora tre mesi di stipendio e temono licenziamenti. L'auspicio è stato detto ancora durante la riunione di limitare la mobilità sanitaria passiva e potenziare l'attività della fisiomedica e del Carsic e individuare ogni altro modo per contenere i costi, diminuire la spesa pubblica, tutelare i pazienti, difendere i lavoratori ed evitare alle famiglie spostamenti fuori regione. I confronti in assessorato hanno consentito di avviare una prima istruttoria per fermare i licenziamenti, approfondire i problemi, ha detto Petraroia, e di individuare delle possibili soluzioni per il comparto della riabilitazione coinvolgendo ASREM e assessorato alla sanità. Sulla bocciatura da parte della Suprema Corte del bilancio consuntivo del 2011, martedì pomeriggio, la delegazione parlamentare molisana e i rappresentanti della regione incontreranno a Roma il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Fassina. Si tratta di un incontro per studiare le azioni da mettere in campo, ha detto il parlamentare Danilo Leva. Il tema non può essere liquidato con superficialità e derubricato a questione secondaria, come ha fatto Michele Iorio nelle ultime ore, ha continuato Leva. Di approssimazione ce n'è stata fin troppa. Ora, concluso, bisogna capire come evitare che tale sentenza abbia effetti devastanti sul Molise. Il Partito Socialista ha presentato al Senato tre proposte di legge per rilanciare l'occupazione e combattere la precarietà del lavoro. Sentiamo i particolari nel servizio. Tre proposte di legge per contrastare la precarietà del lavoro e per rilanciare l'occupazione. I socialisti molisani hanno così aderito alla campagna di raccolta firme lanciata dai vertici nazionali del partito per aiutare la crescita attraverso il sostegno alle piccole imprese e l'estensione delle tutele sociali ai lavoratori subordinati e precari. I socialisti hanno promosso una mobilitazione nazionale col tema solo lavoro per promuovere nuova occupazione. Abbiamo raccolto firme a sostegno di tre disegni di legge che i socialisti hanno proposto al Senato e che vengono proposti a sostegno di quelle fasce più deboli, ovvero donne, giovani, precari e over 40. È un'iniziativa importante che è inserita all'interno di una serie di iniziative che i socialisti porteranno avanti da qui all'autunno. Partiamo dal lavoro perché il lavoro è il tema importante, è il tema, è il tema dei temi. Non ce la facciamo più, ha detto con un pizzico di commozione il presidente del partito, Filippo Poleggi, ad aiutare le tante famiglie che non riescono a vivere dignitosamente. Dai socialisti poi sono arrivate proposte chiare anche per combattere la disoccupazione in regione. Qui nel Molise lo è in maniera particolare perché nel passato il lavoro è stato spesso assistito e quindi oggi scontiamo una problematica maggiore. C'è una lacerazione sociale profonda, bisogna ripartire dall'occupazione e bisogna puntare su quei settori che vanno. E i settori che vanno, manca a farlo a posto, ci dicono di tornare alle origini, ci dicono di tornare alla terra. Oggi l'Italia esporta vini, esporta prodotti come olio, prodotti prima necessità che hanno un mercato. Noi dobbiamo tornare a questo e la nostra regione ha molte risorse in tal senso e dobbiamo ripartire da qui. Un altro prodotto che va nel Molise è il turismo, ne abbiamo parlato sempre, l'abbiamo sempre decantato. È il momento di rimboccare le maniche e di partire da questi settori che sono gli unici che oggi nascondono una crisi e che hanno mercato. All'iniziativa ha partecipato anche il sindacalista dell'Auille Pasquale Guarracino, il quale ha evidenziato le tante crisi aperte in tutti i settori produttivi e dei servizi che, ha detto, affliggono migliaia di famiglie molisane. Il Governo nazionale e la Regione, ha concluso Guarracino, devono rimboccarsi le maniche e affrontare con più determinazione l'emergenza lavoro. Ora andiamo a Venafro dove si è riunito per la prima volta il Consiglio Comunale dall'elezione del sindaco Sorbo. È stato eletto anche il nuovo presidente della Sise, si tratta di Stefania Di Clemente. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Diretta streaming su internet e maxi schermo in piazza per la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Venafro. Non ha nascosto la propria emozione il neosindaco Sorbo, ma al tempo stesso ha ribadito il massimo dell'impegno per consentire alla città di uscire da una situazione molto delicata. La situazione che abbiamo trovato al Comune oggettivamente è peggiore di quella che pensavamo, purtuttavia noi riteniamo che ci siano i margini e le condizioni per fare delle cose buone. Quindi stiamo lavorando, è una squadra in gran parte nuova che deve sicuramente entrare a regime, ma le idee sono chiare, c'è grande determinazione, c'è grande coesione e siamo sicuri che non deluderemo le aspettative dei venafrani. Le deleghe saranno assegnate nei prossimi giorni, ma l'obiettivo di Sorbo è quello di far lavorare tutti, sia gli assessori sia i consiglieri. Questa squadra governerà tutta la città di Venafro, quindi ogni consigliere, ogni singolo consigliere, ogni assessore avrà dei settori nei quali si impegnerà operativamente. Questo quadro lo comporremo nelle prossime ore e cominceremo, ma già abbiamo iniziato per la verità, ad affrontare le questioni importanti che ci sono in questa città. Quindi c'è una squadra che vuole lavorare, io spero che ci lasceranno lavorare come vogliamo e sono sicuro che i risultati alla fine arriveranno. Durante i lavori della SIS è stato eletto anche il nuovo presidente del Consiglio. A larga maggioranza è stata scelta Stefania Di Clemente. Intanto l'opposizione si cala subito nella parte, proponendo alla maggioranza il taglio dell'indennità. Abbiamo, ritengo, dato un assist prezioso al sindaco, in quanto lui per anni è stato l'assertore dell'azzeramento dell'indennità, della semplificazione delle procedure, e quindi abbiamo voluto dare un suggerimento in modo che così, in maniera coerente, lui possa dare anche una risposta ai cittadini. Non faremo di certo sconti alla maggioranza, detto ancora Pietracupa, ma saremo anche un'opposizione pronta a collaborare. Sapremo anche essere duri oppositori, ma non credo che ricorrano le condizioni, anche perché le situazioni in generale sono drammatiche. La gente non credo che gradisca più questa conflittualità. Inizia un momento importante, che è quello dell'amministrare la città, e ci riteniamo quindi amministratori alla pari, che chiaramente dovranno dare un contributo costruttivo nell'interesse della gente. E da Venafro a Disernia il sindaco Luigi Brasiello ha chiesto ai funzionari di Palazzo San Francesco un dossier sull'aumento delle indennità al segretario generale del Comune, per fare chiarezza. Enzo Di Gaetano. La notizia nelle ultime ore è che lei ha dato disposizione affinché si faccia chiarezza su quanto è accaduto al Comune per l'aumento dato dalla commissaria Filippi alla segretaria Petti. Lei ha disposto un'indagine. Può confermarlo, sindaco? Sì, lo confermo. Ho chiesto una relazione per iscritto da parte degli uffici competenti che hanno gestito questa situazione. Voglio capire bene, vederci chiaro, voglio che tutto sia messo nero su bianco per la maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini, per cui non appena sarà pronta la relazione, credo che tra lunedì e martedì già sarà pronta, io la leggerò e poi darò comunicato alla stampa. Già la sua maggioranza, già dal PD, sono in tanti a chiedere che lei ritiri immediatamente questa delibere che, insomma, hanno sollevato davvero tante polemiche. Ma sì, vediamo intanto la legittimità degli atti, verifichiamo questa legittimità, poi insieme con la nuova giunta, che credo la prossima settimana sarà sicuramente insediata, valuteremo le cose più opportune. Certamente in questo momento io, insomma, me ne sarei guardato bene da fare una cosa del genere. Rivedrà anche la decisione sugli immobili storici, Brasiello? Sì, l'ho già dichiarato, ieri mi sono detto d'accordo sostanzialmente con quello che diceva Carance, cioè che per il fatto che per due di loro, per noi sernini c'è un significato che va oltre quello economico, è un significato d'affetto, di vicinanza a questi immobili che va oltre certe questioni puramente economiche. Per cui io credo che almeno due di questi edifici vadano sicuramente ritirati dal bando pubblico. Brasiello ha tra poche ore la nuova giunta, allora confermiamo sette assessori, i più votati, tutti i partiti e tutte le liste. È un criterio di scelta, vediamo se sarà questo il criterio, l'importante è fare una bella squadra in favore di questa città. Presenza del Consiglio ha già deciso o ancora no? No, assolutamente no, sarà una persona al di sopra delle parti che sappia tenere il Consiglio Comunale, attenzione non è un ruolo di secondo piano, io credo che per fare il Presidente del Consiglio Comunale ci voglia una persona che abbia come dire gli attributi tra virgolette e che sappia condurre avanti quelle che sono le problematiche all'interno del Consiglio, per cui persona rappresentativa e che sappia anche rappresentare la città all'esterno, questo è un altro fatto importante. La lista di Isernia Bene Comune ha organizzato una manifestazione davanti all'ex lavatoio per chiedere ai nuovi amministratori di Palazzo San Francesco di annullare un recente bando del commissario straordinario che prevede di dare in locazione alcuni immobili di rilevanza storica. Sentiamo. Non si può pensare di svendere il proprio patrimonio storico solo per fare entrare pochi spiccioli in cassa. Al contrario, quei beni dovrebbero essere messi a disposizione della collettività, sia per organizzare iniziative di carattere sociale e culturale, sia per promuovere il turismo. Lo pensano i componenti della lista Isernia Bene Comune, che bocciano senza appello la decisione del commissario Vincenza Filippi di affittare quattro immobili di proprietà comunale, alcuni di quali di interesse storico, come ad esempio l'ex lavatoio. Se avesse davvero avuto questa intenzione il Comune di fare cassa su un luogo pubblico, per ritenerlo tale avrebbe potuto ripristinare il mercato aumentando i banchi e avere comunque a fine mese moneta contante. La città in realtà ha bisogno di benastre idee, che è quella di potenziare il livello culturale e sociale. Le strutture pubbliche non sono solamente l'ex lavatoio, appunto il luogo che si trova sulla stazione. Ci sono vari palazzi che in questo momento non sono utilizzati. Questo è un danno perché la città in questa maniera non approfitta delle possibilità economiche anche che ci sono dietro. Potenziare le proprie strutture pubbliche e vedere per esempio la nascita di Osteria della Gioventù, biblioteche, punti di informazione, tutti i luoghi che potrebbero potenziare l'offerta della città a un visitatore. L'appello non è caduto nel vuoto. Il neosindaco Brasiello ha ammesso che almeno due degli immobili inseriti nel bando rivestono un particolare interesse storico e archeologico e dunque saranno con ogni probabilità destinate ad altri scopi. Ed ora ci spostiamo in Basso Molise perché a dieci anni di distanza dall'alluvione del 2003 che colpì il Basso Molise e Termoli, gli argini del Biferno non sono stati ancora messi in sicurezza. Il finanziamento di 15 milioni di euro è fermo al Consorzio Industriale dal 2009. Il sindaco di Termoli è tornato all'attacco. Esattamente dieci anni fa l'alluvione che mise in ginocchio il Basso Molise con danni ingenti per le aziende e per i cittadini. Gli argini del Biferno non resistettero all'improvvisa piena dovuta all'apertura delle paratie della diga e fu il disastro. Campi, fabbriche, case sommerse dall'acqua, animali d'allevamento annegati. Un territorio, un'economia in ginocchio che con tanta fatica è riuscita a riprendersi. Ma il pericolo è ancora dietro l'angolo perché quello che è successo non ha insegnato nulla. Gli argini del Biferno, così fragili, sono ancora quelli del 2003. C'è un finanziamento di 15 milioni di euro per mettere in sicurezza il fiume che giace nei cassetti del Consorzio Industriale di Termoli dal 2009, anno in cui la Regione individua il COSIB come ente attuatore. A distanza di quattro anni è ancora tutto fermo, senza un motivo apparente, con il rischio di perdere anche i fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente. E' per questo che il Sindaco di Termoli, Antonio Di Brino, torna all'attacco sulla questione, annunciando una causa contro il Consorzio in caso di una nuova alluvione. Di questa problematica ho investito il Prefetto e devo anche confermare e ringraziare Sua Eccellenza perché già sono state inviate diverse note da parte sua al Direttivo del Consorzio Industriale. Se dovesse accadere qualcosa in quell'area, e se sarò ancora Sindaco, mi auguro di no che accadano quelle cose, farò in modo che il Comune si costituirà parte civile, perché veramente non è più prorogabile la messa in sicurezza dell'argine del Biferno. Non possiamo stare, far stare la popolazione di quel luogo e tutte le industrie che insistono nel Cosimo in una situazione di rischio, di pericolo e di preoccupazione. Il Comitato Nazionale del Paesaggio ha posto l'accento ancora una volta su quella che definisce una crescente e incontrollata domanda per realizzare impianti eolici in Molise, con devastante impatto sul tessuto ambientale, archeologico ed economico. Insieme ad altre associazioni ambientaliste, il Comitato ha scritto al Presidente della Regione Frattura affinché, insieme ad altri membri della Giunta, organizzi un incontro urgente. L'obiettivo è quello di illustrare la necessità di fare un'immediata moratoria per tutti i progetti in via di autorizzazione, di approvare un piano energetico regionale, quelli di assetto idrogeologico e piani paesistici, e revocare la delibera regionale con la quale è stata affidata all'ARPAM la gestione complessiva dell'istruttoria tecnica e amministrativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale. Si è parlato di dislessia e del ruolo fondamentale della scuola nel convegno organizzato a Termoli e che è stata anche l'occasione per la premiazione del concorso come il bruco diventò farfalla. Vediamo. Hanno difficoltà nell'approccio con la lettura, con la scrittura in genere, con il calcolo. Non sono bambini svogliati, come spesso ci si affretta a valutare, ma sono bambini affetti da dislessia, un disturbo dell'apprendimento. Da tempo l'ufficio scolastico regionale porta avanti una serie di iniziative insieme all'Associazione Italiana Dislessia di Campobasso. L'ultima a Termoli, dove è stato organizzato un evento di formazione rivolto ai docenti, alle famiglie, al personale socio-sanitario con lo scopo di creare sul territorio una sinergia che possa dare sostegno e supporto all'attività didattica delle scuole, ma anche al processo di crescita e formazione degli alunni dislessici. La scuola in tutto questo ovviamente è fondamentale. La scuola è il luogo privilegiato per i primi approcci nei confronti anche degli indici predittivi rispetto ai disturbi specifici dell'apprendimento. Tanto che la legge 170, la legge sui disturbi specifici dell'apprendimento assegna proprio alla scuola la presa in carico dell'alunno con DSA. La scuola quindi diventa il luogo in cui si manifestano i primi segnali e come fa la scuola ad accorgersene? Attraverso la competenza sicuramente degli insegnanti i quali sanno cogliere i primi segnali, le prime difficoltà che sono delle difficoltà molto caratteristiche che caratterizzano appunto l'alunno con disturbo specifico dell'apprendimento. All'incontro sono intervenuti esperti del settore che hanno affrontato tutti gli aspetti del disturbo da quelli più pratici a quelli sociali. Sono stati anche premiati i vincitori del concorso dedicato alla parola che si confonde e chiamato come il bruco diventò farfalla. Innanzitutto abbiamo pensato di suddividerlo in due categorie la categoria dislessia d'intorno dedicata ai ragazzi e ai bambini con DSA e la categoria storie di ordinare dislessia dedicata ai ragazzi senza la diagnosi diciamo. Ed è stato bellissimo, ha reso tanto e sarà pubblicato poi a breve dall'aggiunti saranno pubblicati tutti gli elaborati perché sono tutti meravigliosi, tutti degni di un premio. Quali sono i numeri regionali di questa difficoltà dell'apprendimento? Purtroppo non siamo ancora in grado di poter dare un numero regionale perché sono all'attivo all'incirca due o tre screening però non ancora abbiamo una mappatura regionale che ci possa dire in realtà qual è il numero però possiamo dire che riporta la percentuale di quella nazionale del 4-5%. È in chiusura di telegiornale un appello per un pappagallo esotico un cenerino con la coda rossa che si è smarrito a pesche chiunque lo abbia trovato, lo avesse visto, ne abbia notizie può contattare la nostra redazione. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per averci preferito tutti voi una cordiale buonanotte.